Manifestazioni di protesta che domani pomeriggio vedranno il centro storico teatro di Cortei, tra piazza Castello e piazza Matteotti. Preoccupati i commercianti che vedono messo a rischio lo shopping del sabato. Si possono scegliere anche altre zone dove protestare. Perché in centro storico? Abbiamo tanti posti nelle periferie, ad esempio Campomarzo, che si presta, accoglie tante persone. Perché venendo in centro creano un danno comunque all'immagine della città, ma anche al settore economico, ai negozi, ai bar, ai ristoranti. Perché la gente poi quando sente manifestazione non si avvicina al centro storico. Viene penalizzata la nostra città. Preoccupazione specie per la giornata, il sabato che solitamente raccoglie in centro storico cittadini e turisti. Siamo un po' preoccupati perché il sabato è una di quelle poche giornate della settimana che si lavora abbastanza bene. E la manifestazione può creare qualche disagio e di conseguenza lo shopping e la passeggiata può essere messa un po' in disparte. Chi deve venire in centro magari non viene. Chiediamo che assolutamente certe manifestazioni debbano essere spostate fuori dal centro storico. Perché è inutile lamentarsi e piangere sempre. Perché mai i negozi chiudono, questi chiudono. Ma continueranno a chiudere se continuiamo a danneggiare anche con queste cose. Ovviamente non chiudono solo per queste, però aiutano sicuramente anche queste ad allontanare la gente dal centro storico.